non si trovano più biciclette e quindi qualcuno potrebbe pensare non si trovano più biciclette perché tutti vogliono la bicicletta e invece no è qui che casca l'asino scusate mi sposto almeno casca lì scherzi a parte non si trovano più biciclette perché quello che è successo durante la pandemia lo stiamo diciamo così scontando adesso prima della pandemia i magazzini erano pieni l'offerta era bassa la catena di approvvigionamento funzionava alla grande durante la pandemia i magazzini si sono letteralmente svuotati la domanda è stata altissima i motivi li sappiamo la catena di approvvigionamento a un certo punto si è interrotta quindi catena di approvvigionamento bloccata magazzini vuoti domanda alta è impossibile avere una bicicletta però dal 2022 gli analisti del mercato delle biciclette si sono accorti e questo è indiscutibile di un calo della vendita di biciclette perché il mercato è pressoché saturo si sta tornando si spera pian pianino anche se le varianti continuano a imperversare alla vita normale quindi sta calando progressivamente la domanda di biciclette ma nonostante tutto stia calando la domanda i magazzini restano ancora vuoti perché perché prima c'era una grandissima disponibilità di merce diciamo così in attesa di essere venduta i magazzini erano stracolmi e quindi potevi andare comprare e in una settimana ti arrivava la bicicletta ora non è più così ora anche quei pochi che vogliono acquistare una bicicletta nel 2022 che sono meno del 2021 e molti meno del 2020 quando arrivano a comprare una bicicletta non la trovano ma non perché tutti la vogliono semplicemente perché la catena di approvvigionamento si è bloccata a causa covid e per mille altre motivazioni perché il costo delle materie prime altissimo anche l'estrazione delle materie prime ha subito dei ritardi i magazzini lo ripeto sono vuoti e quindi è molto difficile ad oggi trovare una bicicletta quindi quando sentite dire è vabbè per avere una bicicletta ci vogliono 4 o 5 mesi il vero motivo non è che tutti vogliono la bicicletta il vero motivo è che per circa un anno e mezzo la catena di approvvigionamento ha impedito il normale diciamo così riempimento dei magazzini dei negozi dei punti vendita quindi finché non riprenderà a pieno regime la catena di produzione la catena di approvvigionamento che è ancora per buona parte dislocata a monculi cioè in oriente dovremmo aspettare mesi per avere una bicicletta anche se la domanda scenderà questi saranno i tempi tecnici quindi quando andate a comprare una bicicletta e qualcuno vi dice beh c'è da aspettare perché la vogliono tutti non è vero c'è da aspettare perché la catena di approvvigionamento si è bloccata e basta altrimenti mi ripeto dico sempre le stesse cose noi comunque ci vediamo al prossimo video buon allenamento alla prossima fatemi sapere se troverete una bicicletta e ciao